ci siamo allenati tutta l'estate dopo i campionati italiani che abbiamo vinto il 25 giugno in doppio io e massimo abbiamo cominciato la preparazione per bled bled si può dire un campionato del mondo master ma proprio perché master è un campionato del mondo un po più goliardico proprio sul divertimento rispetto a quello che abbiamo fatto tanti anni fa vuoi aggiungere qualcosa sì semplicemente la categoria noi siamo nella categoria e cioè siamo nati nel 1962 quindi abbiamo 55 anni quest'anno e quindi corriamo nella categoria che va dai 55 ai 60 abbiamo nelle nostre predisposto dall'organizzazione di bled abbiamo equipaggi che hanno tutti più o meno la nostra età quindi correremo con degli equipaggi che sono del 62 63 praticamente c'è una flotta intera di veterani della categoria e che correrà nel giorno della nostra batteria che c'è la nostra finale che è sabato 9 alle 3 del pomeriggio maurizio losi e massimo lana seguiteci a bled da giovedì sulla pagina facebook del cuspavia